Ospite nel nostro salotto Fausto De Crecchio che è un collezionista di vignette, io ne ho alcune proprio in mano, adesso le commenteremo insieme. Intanto da dove nasce questa passione? Ricordiamo come dicevo prima nel fuori onda deve avere una casa molto grande perché contiene 5.000 libri, 85.000 riviste e oltre 2.500 disegni originali, oltre ad altre cose che non ha ancora catalogato. Ma anche una casa molto sicura perché poi certe cose sono preziose e quindi rischia anche... Ma da dove viene questa passione? Alcune cose ho dovuto rassegnarmi a tenerle in cassetta di sicurezza perché insomma... Dunque la passione è nata da bambino, diciamo, poi abbandonata e ripresa quando sono diventato papà per stare insieme a mia moglie nel tempo libero mi sono riscoperto questa passione per l'umorismo grafico appunto che è... e questo è successo nel 77. Da allora per lavoro ho viaggiato parecchio, insomma dovunque mi è capitato mi sono fermato a frugare nei mercatini nelle bancarelle, poi diciamo la voce si è sparsa e io ho raccolto queste cose. E vediamo un po' cosa ci ha portato perché sono tanti anche... Ho dovuto fare una scelta e non sarà stato facile, no? Sì, non è stato facile. Ecco, volevo aggiungere che da alcuni anni a questa parte avvicinandomi al pensionamento definitivo che ho conseguito nel novembre dell'anno scorso... E ne sia fiero di questi tempi. E ne sia fiero perché io ero già in pensione in realtà però avevo commesso l'errore di farmi dare una partita IVA e di fare un po' di attività professionale. Ah, è un errore terribile. Un errore terribile che tra l'altro mi sacrificava nel desiderio di dedicarmi a tempo pieno alla mia collezione e a un hobby diciamo che sia aggiunto alla collezione quello di utilizzare il materiale per farlo vedere agli altri. Quindi prestare materiale alle mostre fatti da altri ovvero fare mostra in prima persona. Ovvero organizzare mostra, esatto. Quindi farei due cenni a quello che ho fatto fino adesso. Nel 2001 ho prestato una rivista che si chiama Lemo all'Archivio di Stato di Parma e è stata fatta una bellissima mostra che poi si è spostata alle stelline a Milano e così via. Poi ho prestato delle opere di Enrico Sacchetti a Forte dei Marmi. Poi ho cominciato invece la prima cosa fatta tutta da me è stata la mostra sui medici nella caricatura fatta in sala consigliare a Stagno Lombardo. Che deve essere stata molto curiosa. Nel 2011 ho fatto la mostra sui giudici e gli avvocati e è stata la prima mostra che ho fatto in Archivio di Stato a Cremona dove è iniziata una collaborazione che sta tuttora durando questo 2011. Poi ho prestato il materiale al November Pork Polesine Parmese nel 2012. Nel 2013 ho tornato all'Archivio di Stato con le donne nella caricatura. Insieme a un mio amico Giorgio Guarneri con cui adesso ho fatto una coppia. Allora tornando alle vignette. Dobbiamo iniziare a vedere un po' c'è niente perché poi il tempo scorre. Diciamo l'ho prestata alla mostra della Grande Guerra a Trieste che tra poco si trasferirà a Trento. Questa è un'opera di re maker, una cromolito in cui tre re magi che sono il Kaiser, Francesco Giuseppe e il sultano Maometto V portano i loro doni che sono delle armi. Eh purtroppo, purtroppo, a cento anni dalla Grande Guerra. Andiamo avanti? Sempre in tema di Grande Guerra la mostra che faremo io e il mio amico Giorgio Guarneri in Archivio di Stato in occasione dell'entrata in guerra il 24 maggio, posso già dirvi, e poi tornerò magari a coinvolgervi. L'inaugurazione penso sarà il 23. Questa è un'opera di Giuseppe Scalarini che l'originale è attualmente a Trieste. Ho avuto dagli eredi una scansione a mille dpi che sfrutterò appunto per la mostra di Archivio di Stato. E quindi questa è la satira sulla vittoria un po' acciaccata. Proseguiamo, proseguiamo. Ecco, questa è un'opera forse la più preziosa, diciamo, fra quelle che andiamo a mostrare. L'autore è James Gilray, si chiama Picnic Orchestra, è del 1802. Ce ne sono tre o quattro copie al mondo di questa stampa. Una mi è capitata, non so come neanch'io, è una delle cose che tengo in cassetta. Andiamo avanti velocemente perché ne abbiamo tante da vedere e ci teniamo. L'anno scorso ho realizzato per il My Museo di Sospiro la sezione della mostra Women dedicata a Gerda Wegener, questo è uno dei pezzi di Gerda appunto di cui parleremo un'altra volta perché sarebbe troppo lungo parlare. Poi andiamo a Paul Irib, grandissimo artista francese, amante di Coco Chanel di cui ha fatto La Fortuna, che ha fatto anche pubblicità, questa è una pubblicità che Paul Irib fece per la Maison Nicola, casa vinicola francese, che c'è ancora, e il testo dice Tanto peggio per il mio dottore, si vede che il medico gli aveva proibito il vino e lui se lo beve. Molto bene. Sempre Paul Irib, grandissimo artista, è l'autore del pezzo successivo che ho utilizzato nella mostra sulla giustizia, questo è preso da un testo parlant français del 1934. E' perché la Sartira non risparmia giustamente nessuno, non risparmia nessuna quindi tantomeno la giustizia. Sempre in tema di giustizia il prossimo pezzo che è di Onore Domier, che penso che sia un nome noto anche al grande pubblico, che mostra un avvocato, credo che ce ne siano anche oggi parecchi, che fa finta di essere indaffarato, ha un pacco di pratiche finte e va avanti, corre facendo credere di essere, e questo spera gli procuri qualche reale cliente che in realtà non ne ha. Ah quindi insomma, una finta, una finta, ma intanto travolge anche qualcuno. Travolge un bambino. Ecco, non bada a nessuno. Ok. Arriva adesso un'opera che ho utilizzato per fare il manifesto della mostra sull'agente di giustizia. Il diavolo indica i suoi tre figli prediletti, un giudice, un prete e un militare. E' tra le categorie. Jossot, che è l'autore di questo pezzo, è uno dei mostri sacri del gruppo, del Charlie Hebdo, contraddizione alla contraddizione, Jossot, questo all'inizio del secolo scorso, si convertì all'islamismo. Ecco, qui siamo veramente... Questo è un pezzo straordinario che ha fatto un mio carissimo amico, che si chiama Enzo Apicella, il mio autore preferito, pubblico ormai solo online, perché non trovo più nessun editore disposto a pubblicare le sue cose, qui non si è capito bene se siamo in un reparto di andrologia e un reparto di ortopedia. C'è un po' di confusione. Un cliente che sul comodino ha lì una quantità esagerata di confezioni vuote di Viagra. Va bene. Questa è stata utilizzata... Ah, l'ultimo italiano, dobbiamo chiudere, l'ultimo italiano... Ecco, questo è un pezzo che mi dedicò al TAN nell'84. Addirittura, 1984 al TAN. Qua si affonda nella merda Ciputi, se lo dici te mi fido, decrecchio. Io, diciamo, allora viaggiavo e uno dei miei problemi, andavo in giro per l'Africa, per l'Asia, era difendermi dalle malattie intestinali che purtroppo... Ah, è per quello il riferimento scatologico. La mia valigia era piena di metà di progetti e l'altra metà cartagenica di centenne e limoni. Ecco, ne abbiamo ancora uno, esatto. Ho scoperto allora che anche lui soffre del mio stesso problema e lì cominciò appunto una corrispondenza. L'ultimo, l'ultimo perché... Questo è un noto professionista cremonese, un penalista, non so se qualcuno di voi me lo sa individuale, lei l'ha già riconosciuto, mi ha autorizzato ieri a fare nome e cognome, Giovanni Benedini. Giovanni Benedini, l'avvocato Benedini. Ma la cosa straordinaria è il nome dell'autore, dobbiamo dire. Cioè? Suor Maria Benedetta Smerieri dell'Ordine dei Predicatori. Suora di clausura in San Sigismondo. Come ho fatto a scoprire che in clausura ci fosse una caricaturista, ve lo racconterò la prossima volta. Dobbiamo chiudere, salutare, siamo in ritardo. Voglio solo ricordare, tra gli ospiti abbiamo parlato di un corso di autostima, dobbiamo ricordare che il 31 gennaio termine, il termine ultimo per le iscrizioni, si può mandare una mail a autostimacontroviolenza, chiocciolagmail.com. A domani, grazie, ciao. Grazie De Crecchio. Arrivederci, grazie.